Una spilletta indicativa per un impegno importantissimo, oltre quello per il mondo del calcio. Con la Nocerina adesso un impegno ancora più gravoso, l'organizzazione logistica delle universiadi, evento planetario che servirà alla Campania anche per promuoversi non solo dal punto di vista sportivo. Benvenuto a Bruno Jovini. Un evento straordinario, la Campania si è candidata allo svolgimento di questa manifestazione che è la seconda dopo le Olimpiadi. Abbiamo in Campania 9.000 più atleti, 127 paesi di tutto il mondo, 64 cantieri aperti, 64 strutture sportive in fase di ultimazione, quindi mi pare che sia un evento straordinario. Sappiamo che ci sono delle culture, delle lezioni nettamente diverse, ma noi dobbiamo socializzare, aggrecare, inserire e inserirci in questo contesto che è una manifestazione credo storica. Un mese o poco più all'inizio dei giochi olimpici universitari, come procede la macchina organizzativa? Quanto sono avanti i cantieri, i lavori nelle varie strutture sportive, nelle 64 strutture sportive interessate dall'evento? Siamo, si era in netto ritardo, però si sta recuperando, si sta recuperando alla grande una struttura gestita dal commissario straordinario, che è l'ingegnere Basile, da un gruppo di tecnici, dirigenti, 200 universitari che stanno facendo di rocine, una macchina organizzativa, la FISU internazionale, sta andando alla grande. Domani abbiamo uno degli ultimi convegni con gli istituti sportivi scolastici a Salerno, avremo una grande affluenza di presenza autorevole, non solo circa 400 ragazzi, ma l'evento è molto importante perché daremo, come stiamo facendo in tutta la campagna, oltretutto lo faremo anche a Nocere il giorno 6, con la presenza di due eccellenze, il Vescovo, stiamo dando un segnale forte, la campagna deve uscire forte da questa venta che ripete un evento storico. Un'occasione fondamentale per far sì che la campagna possa fare quel passo in avanti in più nell'ambito delle strutture sportive che sono sempre state una enorme pecca per l'intera regione negli anni passati. Noi possiamo dire che fra 20 giorni le infrastrutture e le strutture sportive sono tutte consegnate, tutte omologate con la FISU, con l'organismo internazionale, dalle panchine alle porte, le bandierine, i canestri e quant'altro. Il problema è che dopo il 16 luglio queste strutture devono essere gestite, devono essere gestite in modo perfetto tra le istituzioni, le società sportive, le associazioni, il CONI, le scuole, però devono far tesoro che le strutture sono tutte adeguate, tutte rinnovabili e quindi bisogna adeguarci a non distruggere, perché poi a costruire ci vuole tempo, a distruggerle ci vuole poco. Quindi 64 impianti nella regione Campania, dalle palestre alle piscine ai campi sportivi, ai campi di campionato nazionale di lettanti, è un impegno da grandissime occasioni, quindi bisogna rappresentare che dopo il 16, dopo il 20 luglio queste strutture vanno conservate, vanno gestite e vanno rispettate.